buongiorno buon inizio settimana a tutti un saluto da Umberto della Martora qui dagli studi di Radio Master sono oggi da solo non c'è l'amico Mastro Martino perché impegnato in altre faccende professionali comunque noi cercheremo di farvi un po' il quello il sunto di quello che è successo in questa domenica calcistica passiamo prima di tutto ai risultati Benevento Casertana 6 a 0 Matera Catanzaro 3 a 0 impattano Ischia Isola Verde e Fidelis Sandri a 0 a 0 Messina Foggia 3 a 2 Catania Juve Stabia 1 a 1 a Monopoli Lecce batte Monopoli 1 a 0 Melfi Martina Franca 1 a 1 Cosenza Paganese 0 a 0 la classifica vede in testa il Benevento con 50 punti Lecce in segue a 49 a 46 c'è la Casertana 45 Cosenza Foggia scivolato al quinto posto con 44 punti pressato dal Matera di Padalino con 41 Messina 37 Fidelis Sandri e Paganese 34 Juve Stabia ed Acragas 31 l'Acragas dovrà recuperare la partita con la lupa Castelli Romani gioca stasera il Monopoli 28 Catanzaro 27 Catania 26 Melfi 24 Ischia 21 Martina Franca 20 chiude la lupa Castelli Romani che appunto stasera giocherà contro l'Acragas ad 8 punti abbiamo qui come ospite oggi un personaggio che ha fatto tanto per il Foggia nella passata stagione non solo e adesso è impegnato col Manfredone a calcio io saluto e ringrazio per la propria disponibilità l'avvocato Luigi Miccoli buongiorno buongiorno a tutti buongiorno avvocato io la ringrazio perché so che lei è impegnatissimo sia a livello professionale con la sua attività di legale ma anche calcisticamente in quanto insomma quest'anno ha deciso di avventurarsi nella squadra Bianca Azzurra come dirigente ecco partiamo proprio dal suo Manfredonia un Manfredonia che c'è stato un momento della stagione che lasciava credere un po' noi tutti che forse avrebbe potuto aspirare a qualcosa in più della salvezza poi è successo qualcosa insomma adesso sta lottando a denti stretti e io comunque sono convinto che ce la farà a guadagnarsi la riconferma in quarta divisione sì c'è stato adesso anche un comunicato dei calciatori che si dolevano del mancato pagamento degli stipendi purtroppo io sto verificando che il mondo del calcio soprattutto a questi livelli qui è un mondo nel quale molto spesso i valori sportivi vengono decisamente superati da interessi particolari e diciamo interessi del proprio occhio a Manfredonia io ci sono andato con tutte quante le diciamo tutta la buona volontà di poter costruire qualcosa di importante l'organico che c'era era un organico che doveva puntare ai playoff punto e basta su questo cioè io non ammetto né repliche né dell'attuale allenatore del Manfredonia calcio né di nessuno dei tesserati perché per tre ore al giorno che si allenano con le potenzialità che hanno potrebbero fare molto molto di più e non lo hanno fatto sul perché io mi interrogo sempre però non mi sto dando alcune risposte adesso fino a quando non avrò un chiarimento definitivo con la proprietà del Manfredonia calcio visto che un bel po' di sforzi economici non gratuiti da me sono stati fatti il Manfredonia calcio starà a margine dei miei interessi che oltre a quelli professionali sono anche in questo momento quello di rivolgermi in particolare a Foggia per lottare contro problematiche decisamente più importanti che sono la criminalità e la presenza mafiosa sul territorio che io abborro in ogni luogo e ovunque mi date l'opportunità di parlarne io dico a tutti quanti di mettere la mafia da parte, di respingere qualsiasi richiesta di pizzo di respingere la cultura dell'illegalità perché così potremo andare avanti ecco io noto in queste parole insomma tanta amarezza da parte dell'avvocato Micoli anche perché conoscendola so che lei ama moltissimo oltre che lo sport calcistico ama soprattutto il nostro territorio e quindi vorrebbe vedere sempre delle eccellenze al suo interno cosa che ahimè in questo momento forse non è possibile per una serie di cause che adesso sarebbe troppo lungo elencare però ecco le fa onore questa sua dichiarazione perché comunque rende merito a una persona che sta cercando di fare qualcosa di positivo sia professionalmente sia calcisticamente proviamoci certo dopo questa premessa per quanto riguarda il suo Manfredonia ecco io vorrei volgere un attimo lo sguardo alla Foggia Calcio Foggia Calcio di cui lei è stato dirigente che è la mia squadra del cuore lo sappiamo proprio per questo insomma la tiro in ballo ecco un momento sicuramente poco felice quello dei rossoneri che fino al termine del girone di andata avvocato sembrava una squadra che se non non dico da poter ammazzare il campionato però quanto meno da poter lottare sicuramente per un passaggio in B anche diretto senza passare attraverso i playoff poi dopo Natale, dopo le festività e quindi con l'inizio del nuovo anno è successo qualcosa che ha cambiato le carte in tavola la squadra non è stata più se stessa ha alternato delle prestazioni anche positive ad altre totalmente negative l'ultima dei quali è stata proprio quella di ieri contro il Messina nella quale abbiamo avuto modo di vedere un Messina che se non ha maramaldeggiato quantomeno ha vinto meritatamente contro una squadra che sicuramente non ha dato il meglio il problema che io ho visto quest'anno nel Foggio faccio una premessa questa società qui e non parlerò della squadra non ho nessuna intenzione di parlare né dei tesserati né dell'allenatore mi sono già espresso poi ieri su Di Bari su quello che penso io su Di Bari comunque questa società qui meritava di stare 20 punti sopra alla seconda per gli sforzi fatti per i mezzi dati a disposizione del compound tecnico doveva stare 20 punti sopra quello che non va non è che lei mi dice dopo Natale io sono stato in trasmissione con lei dopo 4 partite dissi che erano solo 4 partite e che bisognava dare il tempo di salire perché era una squadra che sarebbe salita senza problemi ha un tasso tecnico che è straordinario sotto questo profilo qui credo che non abbia pari in tutti quanti i gironi di Lega Pro questa squadra detto questo la cosa nella quale uno si è imbattito in questa spaventosa discontinuità non sono le sconfitte fuori casa sono i pareggi in casa quelli che a me hanno sorpreso più di ogni altra cosa soprattutto con uno zaccheria cioè che non è il dodicesimo uomo il dodicesimo, il tredicesimo il quattordicesimo uomo una società che ha fatto sforzi in mani in mani quest'anno qui per puntare per dare alla città il traguardo importantissimo un budget importantissimo è stato investito in questa squadra assolutamente sì assolutamente sì non è un budget di una tornata e via è un budget pluriannale e su questo ci sarebbe molto da parlare questo è anche quello che io ritengo penso semplicemente una cosa allora che De Zerbi sia un cultore del lavoro di quelli come poche persone ho visto io nel mondo del calcio è un lavoratore di una serietà incredibile ma è anche una persona molto giovane ritengo ritengo che la società abbia fatto tutto il possibile se lei mi chiede qual è il problema del foggia calcio io mi sono fatto nel corso del campionato più idee a un certo punto ho pensato che fosse una questione di preparazione a un certo punto ho pensato che fosse solamente una questione di approccio la realtà dei fatti questo lo insegna anche il campionato di serie A è che la Lega Pro è un inferno vero e proprio in cui tu partita per partita è una battaglia certo io non utilizzo termini finali partite facili non ce ne sono allora in cui se pensi di metterci il 99% dalla prima all'ultima in classifica non sei se vinci se vesti la maglia del foggia allora quando vai in campo fai il favore ai tifosi e qui parlo da tifoso certamente di metterci il 110% altrimenti stai a casa perché qua stai a foggia che è una signora di 96 anni che va rispettata certo questo io non l'ho visto adesso mi si venga a dire mancano 8 partite e tutto quanto ancora in gioco è vero ma non doveva essere così il foggia doveva star su di almeno 10 punti rispetto alla seconda cioè parliamoci in maniera molto chiara dove doveva stare il foggia adesso? sì 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 doveva essere capolista dall'inizio alla fine del campionato perché con questi mezzi si è presentata avvocato non potrebbe essere anche forse non so io ecco tra le tante ipotesi ci aggiungo anche la mia una mancanza di abitudini a vincere forse da parte di qualche calciatore o una mancanza magari anche di concentrazione perché come si spiegano le alternanze cioè queste alternanze tra partite magari giocati alla grande ecco faccio l'esempio di martedì scorso in Coppa Italia 6 a 1 contro il Siena che comunque aveva tutte le carte in regola per poter superare il turno di Coppa Italia e poi la partita di ieri ma la prego di una cosa della marca di Siena che aveva fatto negli ultimi 4 partite sì 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 quando quella aveva preso certo certo quindi anche la difesa che era una delle difese meno battute del di tutta la categoria è diventata se non un colabrodo insomma qualcosa che ci va molto vicino fino a che fai un gol in più dell'avversario va tutto bene questo è quello che penso io fondamentalmente questo è la è la è il discorso che faccio io no io io caro Umberto non io prendo atto di una cosa prendo semplicemente atto di una cosa che se i giocatori avessero guardato alla metà degli sforzi che ha fatto la compagina società non saremmo stati 20 punti sopra dovevamo stare 10 punti sopra punto cioè non c'è altro da dire è inutile costruire alibi poi se si perde si perde se si vince si vince io purtroppo poi vedo delle delle raccapriccianti similitudini similitudini col Manfredonia praticamente con la squadra la quale sono dirigenti cioè andiamo a giocare con le prime in classifica andiamo a fare grandissime partite poi giochiamo con squadre che dovremmo pestare dal primo secondo fino al novantesimo e andiamo a perdere cioè queste sono le cose che proprio non non comprendo spuggono alla logica ma probabilmente guardi io mi interrogo sempre probabilmente il mondo del calcio non è così è ancor più aleatorio di quello che noi potevamo pensare questo è il discorso di fondo quello che a me quello che a me dispiace è che però tu andando in campo a questa maniera qua la tifoseria alla tifoseria fai male fai molto male praticamente perché la tifoseria sarebbe in grado di accettare un ottavo posto un quinto posto dove uno si è giocato tutte le carte a viso aperto piuttosto che vedere occasioni perdute io credo che il malumore che si stia creando sia dovuto alle continue occasioni perdute che abbiamo visto nel corso del campionato e un po' di esperienza in Lega Pro io ce l'ho e mi assumo le responsabilità di quello che dico io nelle ultime 4-5 partite di campionato non ho mai visto partite vere avvocato noi comprendiamo la sua amarezza questo per essere questo per essere chiari ecco la ringraziamo la ringraziamo per questa devo essere così sono così la ringraziamo per la sua disamina e comunque ci auguriamo l'anno prossimo di vederla di vederla ancora in prima fila a lottare per il calcio della nostra provincia dovunque esso sia io ho imparato da gente come te sempre a fianco allo sport se abbiamo la fortuna se abbiamo la fortuna che il signore ci assiste diciamo per soddisfare quelle che sono le esigenze familiari il resto va fatto per il territorio io non mi tirerò mai indietro e noi di questo la ringraziamo e le siamo riconoscenti avvocato grazie ancora per la sua disponibilità e speriamo che la prossima volta magari che ci sentiremo potremo parlare in maniera un po' meno triste e più lieta delle vicende calcistiche della nostra provincia grazie ancora bisogna parlare in maniera seria e ferma io direi anche un'altra cosa che prendere il esempio da come si comporta il cerigno non sarebbe sicuramente sicuramente anzi onore ai gialloblu che hanno fatto un grandissimo campionato grazie ancora avvocato buon lavoro buon lavoro grazie ecco siamo in ritardo per cui andiamo a leggervi subito il prossimo turno che vedrà il 19 marzo in campo Paganese Benevento Martina Franca Casettana Lecce Catanzaro Lupa Castelli Romani Cosenza Foggia Ischia Juve Stabia Matera Messina Melfi Fidelissandria Monopoli e Acragas Catania per quanto riguarda invece i tabellini delle giovanili mandatici da Flora Bozza nella Beretti il Foggia Calcio ha battuto il Monopoli 2 a 0 nell'Under 17 non si è giocato Foggia Benevento perché sul campo di Rocchetta Sant'Antoni era calata una fitta nebbia che impediva lo svolgimento della gara mentre invece il Foggia Calcio allievi regionali ha battuto fuori casa il Real San Giovanni per 3 a 1 poi per quanto riguarda invece la partita della scorsa settimana della nazionale degli Under 17 Teramo Foggia Calcio il giudice sportivo ha inflitto alla società Teramo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 il Foggia Calcio quindi sale a 36 punti con due care gasalinghe da recuperare quella con la Roma e questa appunto di cui abbiamo parlato prima con il Benevento entrambe a Rocchetta bene per oggi è tutto io ringrazio chi ha avuto la cortesia di ascoltarci e saluto tutti rimandandovi all'appuntamento con il lunedì sport alla prossima settimana ciao a tutti grazie a tutti